C'è un profilo a suo nome su TikTok, ma Mara ci fa sapere che non è lei, perciò è una fake. Allora ragazzi, come ho messo la foto nel mio post precedente su Story? Io non sono su TikTok, nessuno è autorizzato a mettermi su TikTok. Quelli sono iniziative di non so chi, sono fake e adesso farò una segnalazione ovviamente. Comunque grazie perché i commenti sono pure carini però, insomma, è tutto non autorizzato, ok? E poi è una presa per il culo per voi che credete che sia io. Ciao, 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 buon anno, buon anno a tutti. Mara farà una segnalazione perché quel profilo è falso. Nessuno si può permettere di usare il suo nome.